Presidente Natalora, qual è lo stato dell'arte degli interventi, soprattutto sulle strade provinciali? Abbiamo quasi finito un bel po' di interventi, altri stanno per finire, altri li abbiamo progettati. Credo che grazie agli interventi e alle sue emergenze subito effettuate durante l'alluvione, nei giorni immediatamente successivi e a poi gli impegni presi anche con debiti fuori bilancio da parte della provincia siamo riusciti a intervenire garantendo la sicurezza del territorio per eliminare le prime criticità, poi questi debiti per fortuna sono stati con rapidità coperti da fondi regionali e svincolati grazie alla dichiarazione di stato di emergenza da parte del governo. Per i comuni c'è speranza che in tempi più o meno brevi possa accadere la stessa cosa perché anche lì ci sono sombruggenze fatte, cominciate senza avere i soldi e i soldi non sono ancora arrivati. Certamente, io sono sindaco, anche io sono stato in parte colpito, il mio comune è stato in parte colpito non nella maniera così grave come nell'Alta Valle Roscia da questa alluvione, come comuni su tutto il territorio provinciale perché partiamo dall'Alta Val Nervi e andiamo anche nella Valsteria. Il grosso è ovviamente sia in termini di danni, sia in termini di disagio, sia in termini di soldi sulla Valle Roscia. Credo che ci sia già un immediato stanziamento già da domani da parte di Regione Liguria di una somma importante a beneficio dei comuni, quelli maggiormente colpiti in primo luogo e poi auspico che vi siano altre importanti risorse sia da Regione che dal Governo. Poi ci sarà chiaramente l'utilizzo della parte di questi 11 milioni stanziati per le prime criticità da parte del Governo centrale a beneficio dei comuni. Dovranno essere valutate le schede inviate dai comuni, se non erro il termine per l'invio in Regione era quello del 27 di dicembre, quindi pochi giorni fa. Era stato un termine anche abbastanza breve per poter poi consentire di valutare tutti gli interventi e quindi procedere poi ai finanziamenti per i lavori necessari relativi a questi interventi. Le tempistiche sono tutto sommato abbastanza brevi. Chiaro che per noi sindaci comunque è sempre un problema esporsi, è un problema affrontare senza soldi determinate situazioni. D'altra parte alternative non ce ne sono, ricordo che in passato in analoghe situazioni gli stati di emergenza sono arrivati anche sei mesi dopo, i soldi ancora dopo. Questo non vuol dire che dobbiamo dormire sonni tranquilli perché quelli non li dormiamo mai, però cercare di avere fiducia nelle istituzioni che finora mi sembra che abbiano risposto in maniera puntuale. Di questo e altro parleremo domani sera alle ore 21 a microfono aperto nell'ultima puntata della nostra trasmissione di approfondimento per quello che riguarda il 2016.